Quando non si gioca da squadra si fa fatica, noi siamo un gruppo nuovo e l'abbiamo dimostrato che quando ragioniamo tutti da squadra possiamo creare problemi ovunque. Siamo partiti bene, alla prima difficoltà pensavamo di risolvere la partita ognuno per conto proprio, però mi assumo le responsabilità. E' normale che c'è il rammarico perché comunque perdere così fa male, è normale che ripeto la cosa che più mi ha fatto arrabbiare è che volevamo andare a prendere subito la palla invece dovevamo aspettare perché avevamo visto bene la Paganese che ha un giocatore che è portiere che comunque riesce a far giocare bene la squadra. Tant'è vera che l'azione del gol, l'avevamo visto anche negli altri filmati, era partita sempre dal portiere, da Marrocco, quindi siamo fatti prendere la frenesia di andare a prendere e abbiamo lasciato un buco esagerato e sono stati bravi a punirci. Sassà oltre che essere un grande amico è un signor allenatore, penso lo stia dimostrando qui, l'ha dimostrato in passato, lo dimostrerà. Sono partite che vengono risolte dall'episodio, la mia squadra certamente ha fatto una buona partita, siamo stati attenti, abbiamo modificato qualcosina rispetto a domenica scorsa, siamo un cantiere apertissimo e oggi erano all'esordio sia Camilleri che Herrera dal primo minuto dopo tanti mesi di inattività e siamo arrivati l'ultima mezz'ora che francamente non ne avevamo più. Sappiamo delle difficoltà che abbiamo ma dobbiamo continuare a lavorare.